Oggi in un'impresa è il capitale umano che crea il capitale economico. Siamo partiti oltre 20 anni fa da un'idea. Oggi siamo in vari paesi del mondo, dagli Stati Uniti al Sud America, in alcuni paesi dell'Europa. Noi crediamo di poter cambiare il mondo dell'imprenditoria in Italia e in altre parti del mondo, migliorando la qualità delle persone. Stiamo cercando persone che come noi, appassionate al miglioramento personale, ci aiutino a portare avanti il nostro progetto d'impresa. I consulenti del nostro gruppo li selezioniamo per attitudini e non per competenze. All'interno del nostro gruppo le persone vengono formate, possono accedere alle nostre attività formative all'interno della nostra accademia per diventare dei professionisti nel mondo della consulenza d'azienda. Il nostro obiettivo è quello di creare in un'azienda un ambiente stimolante e produttivo, dove le persone possano prosperare e mettere in evidenza le loro capacità e esprimere appieno il loro potenziale. Un gruppo armonico di persone che, condividendo una meta e condividendo dei valori, portano avanti un progetto d'impresa, può far sì che l'impresa cresca ed ottenga dei risultati straordinari. Grazie per la visione!